Ehi! L'ultimo nottambolo! No, non sono l'ultimo. Tutto ok? So che Babette ti ha stracciato ai dadi. È che mi sento molto stupido in questo momento. Perché? Io non sono un tipo misteriosa. Il tuo abbigliamento la dice lungo. Credo di essere stato chiaro nelle mie intenzioni. Le tue... Insomma, il matrimonio, il film, i fiori... Luke... Tu lo sapevi quello che stavo facendo? Beh, no, non ufficialmente. Non ufficialmente, ti prego. Non c'erano avvocati presenti, ma per il resto... Beh, non hai detto niente di ufficiale. Che avrei dovuto dire? Io ho agito, ho lasciato parlare i fatti. Ecco quello che si deve fare. Devi far parlare i fatti così si comporta una persona romantica. Ok, hai ragione, mi dispiace. E tu sei stata al gioco in tutto. Così naturalmente ho dedotto che fossi d'accordo anche tu e poi il tuo fidanzato si presenta alla locanda in cui io ho investito. Che fidanzato? Parli di Jason? No, di Tom, sì, di Jason. Voi avete parlato? Che ti ha detto? Ha detto che state insieme. Insomma, stavo seduto lì e questo tizio mi ripeteva quanto siete perfetti. Tu sei perfetta, lui è perfetto. E intanto continuavo a pensare, perché diavolo ho fatto tutto questo? Sei già occupata. Io non sono occupata. Noi ci siamo lasciati. Beh, lui non lo sa. Senti, adesso calmati. No, non voglio affatto calmarmi. Ho fatto tutto alla perfezione. Tutto quello che diceva il libro. Il libro? Pensavo che fossimo in sintonia e invece sei qui davanti a me e mi guardi come se fossi pazzo. Non ti sto guardando come se fossi pazzo. Sai che avevo regalato dei fiori prima di oggi a nessuno. Ecco a chi. Io... Una cosa facile da ricordare. Io li adoro quei fiori. E poi quando tu hai riaccompagnato a casa c'è stato un momento che... Io pensavo che ci fossero... C'è stato! C'è stato un momento. Che vuoi fare? Stai ferma un secondo. Che vuoi fare? Stai ferma un secondo. Torno subito. Poi ti spiego.